Sono Ilario Buang, presidente della VDA Group. La storia di VDA è iniziata 40 anni fa. Ho iniziato a fare dei progetti di risparmio energetico. Questo progetto, che si chiamava T20, praticamente permetteva, garantiva un risparmio energetico nei condomini del 30%. Da questa idea del risparmio energetico, ho cominciato subito a pensare a questo progetto inserito nell'albergo. Facilitare l'hotel a livello economico, organizzativo, ma soprattutto a livello di risparmio. Cosa importantissima è che noi regalavamo conoscenza alle aziende che operavano nel settore degli hotel. Regalavamo conoscenza per ottenere ordini. E questa è stata una strategia vincente che ci ha permesso di crescere veramente notevolmente. 40 anni di attività in VDA hanno rappresentato per me un periodo veramente di grande valore emotivo e di grande valore professionale. Quello che abbiamo fatto in questi 40 anni è molto importante. Siamo passati da un'attività di consulenza ad aziende più grandi di noi, acquisendo conoscenze in svariati campi della tecnologia. Conoscenze software, firmware e hardware. Per me VDA è stata fonte di una ricchezza emotiva, affettiva, in quanto ho sempre vissuto in questa azienda in un rapporto vero con le persone. Siamo a raccontare questa storia bellissima. Più che raccontare, siamo contenti di vedere che questa storia viene continuata da una governance che ho intravisto in essa gli stessi principi, la stessa vision. Un augurio alla nuova governance di continuare così come ha iniziato. Un augurio e un saluto carissimo a tutti i partecipanti a questa nuova avventura.